Di meglio per continuare la vostra estate Ricordare i vostri momenti migliori con le gambe più belle di Italia Quelle di Alba Parietti Insieme a lei, le Miss e i Mister Mediterraneo E poi, Raff Clarissa Bart Stefano Masciarelli Natalia Estrada Massimo Boldi Vittorio Sgarbi Sandro Paternostro Saranno tutti ospiti del varietà che continuerà la vostra estate Da Ibiza, in contemporanea con Telesinco Alba Parietti E Teoteoccoli presentano su Rete4 Arrivederci estate Martedì 14 settembre alle 20.30